Ben ritrovati con l'informazione di TRMH24 e gli auguri di un buon anno da parte di tutta la redazione. Iniziamo il nostro telegiornale facendo però il punto su quanto è accaduto durante i festeggiamenti di ieri notte. Infatti in tutto il territorio regionale con riferimento alla Puglia si sono verificati degli incidenti collegati ai botti di Capodanno. Sentiamo. I botti hanno nuovamente segnato tragicamente la notte di Capodanno in Puglia. In quasi tutta la regione sono stati segnalati incidenti legati ai fuochi d'artificio. A Taranto due ragazzi, uno di 18 e l'altro appena di 10 anni, hanno subito l'amputazione di parti della mano. Ci sono due giovani rispettivamente di 10 e di 18 anni che hanno riportato delle lesioni traumatiche da scoppio importanti con amputazione sostanziale delle dita della mano sia l'uno che l'altro. Quindi lesioni particolarmente gravi con compromissione proprio dell'integrità strutturale della mano e delle dita, sia nel primo sia nel secondo caso. A Lecce un 80enne è stato colpito alla testa da un petardo ed è ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi in prognosi riservata dopo aver subito un'operazione per un'emorragia cerebrale. A Gallipoli invece un 53enne ha subito la frattura di un dito della mano dopo aver raccolto per strada un petardo inesploso. A Copertino, a causa di un botto dello stesso tipo, un uomo di 35 anni ha subito invece ferite su tutto il corpo. Con forza il dottor Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto, esprimendo la vicinanza del 118 e dell'asla locale alla popolazione, rinnova l'appello a tenersi lontani dai botti. Una notte di capodanno funestata da quella che è veramente la situazione che noi ogni anno invochiamo, preghiamo di evitare. Di anno in anno rinnoviamo tutti gli appelli, promuoviamo tutti i percorsi dell'educazione sanitaria, veniamo in dialogo con la società civile, con i mass media, in ogni modo e puntualmente abbiamo giovanissimi che perdono l'uso delle mani. Quando non vengono a perdere l'utilizzo anche degli occhi, della compromissione della vista. E abbiamo fatto il punto anche su quanto è accaduto la scorsa notte nel territorio di Bari e della Bat con la dottoressa Alestandra Agostini. Dottoressa, qual è il bilancio di questa notte? Allora, il bilancio di questa notte, tutto sommato, possiamo dire che è positivo. Come interventi, praticamente abbiamo avuto un'attività ordinaria che ha fatto 98 interventi dalle 22 alle 8 del mattino, nel corso dei quali possiamo segnalare, legati all'avvento particolare del Capodanno, soltanto due feriti per scoppio di petardi in modo non grave, quindi ossioni non gravi e quattro stati di abrezza alcolica, quindi niente di più dell'attività ordinaria. Circa poi invece all'evento del Capodanno organizzato in piazza, possiamo dire che l'attività si è svolta in maniera tranquilla grazie anche alla macchina organizzativa che ha gestito l'evento con risorse aggiuntive posizionate proprio per l'evento, quindi mezzi e risorse oltre quelle dell'attività ordinaria. Due feriti, una nella zona di Altamura e l'altra nella zona di Monopoli, però ripeto in modo non grave, uno ospedalizzato e l'altro recatosi poi autonomamente perché erano ustioni lievi. Il primo gennaio si ritorna quindi alle attività ordinarie? Sì, ora stiamo procedendo come ogni giorno, l'attività continua, non ci formiamo mai e al momento ci auguriamo che tutto proceda come sempre, come ogni giorno. Secondo quello che si è appreso dalle questure di potenza e di Matera, i botti in Basilicata hanno causato soltanto due feriti lievi. I vigili del fuoco inoltre sono intervenuti a Bernalda, siamo nel Materano, per spegnere un piccolo incendio causato proprio dall'uso dei fuochi pirotecnici. Intanto però nelle scorse ore sono state numerose le azioni da parte delle forze dell'ordine per il contrasto alla vendita illegale dei botti. Andiamo a vedere i principali interventi nell'area pugliese. A Bari la polizia locale ha sequestrato 45 chili di fuochi pirotecnici illegali per un totale di 5.600 pezzi. Il sequestro è avvenuto in particolare nei quartieri Libertà, San Pasquale, Iapigia, Carrassi e San Paolo. Gli agenti hanno rimosso anche dei banchetti abusivi dove venivano venduti fino a poco prima di mezzanotte appunto i botti illegali. A Monte Iasi invece è stato arrestato un 39enne che deteneva nella sua abitazione ingente e materiale esplodente per un totale di oltre 280 chili tra manufatti, polvere esplodente, artifici pirotecnici di varie categorie. Sempre nel Tarantino i carabinieri hanno arrestato un 42enne che nascondeva nella sua abitazione nel quartiere Paolo VI 66 chili di materiale pirotecnico artigianale. Nei quartieri Talsano, Tamburi e Paolo VI ancora a Tarantino i poliziotti hanno controllato sei banchetti vendita sottoposto a sequestro amministrativo, 300 chili di materiale esplodente ed elevato 3.000 euro di sanzioni amministrative ai presunti responsabili della vendita illegale. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però a Foggia una sparatoria nella notte. È stato ferito un uomo con precedenti all'arrivo dei soccorsi ha rifiutato di fornire indicazioni. Un 37enne è stato colpito da un proiettile alla gamba sinistra ieri sera intorno alle 20 in Piazza Nuova a Foggia. I soccorsi sono stati allertati tramite una chiamata anonima giunta al 118 nella quale si segnalava una sparatoria e la presenza di un uomo ferito in strada. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti si ipotizza che possa essersi trattato di un vero e proprio agguato. La vittima, subito trasportata in ospedale e fuori pericolo di vita, sarebbe già nota alle forze dell'ordine e avrebbe precedenti per spaccio di droga e furto. Insieme al 118 è arrivata in Piazza Nuova anche la Polizia di Stato. Una volta sul posto, stando a quanto si apprende, gli agenti si sono però scontrati con un muro di silenzio. Nessuno è stato in grado di fornire informazioni utili. Anche la vittima si è rifiutata di collaborare con gli inquirenti e non ha risposto ad alcuna delle domande. A questo punto le indagini proseguono vagliando le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Decine di cassonetti a Taranto sono stati distrutti da incendi che sono stati appiccati nella notte. A comunicarlo la società Chimambiente da subito al lavoro per gli interventi di pulizia si registrano anche atti di tempismo alcuni dei quali documentati con video postati anche sui social come il danneggiamento di un tombino sul quale è stato posizionato e fatto esplodere un grosso petardo. In alcune aree particolarmente colpite poi dall'abbandono di notevoli rifiuti ha spiegato ancora la società partecipata. Sono stati utilizzati due ranni meccanici per intervenire nelle operazioni di pulizia che hanno anche prelevato le macerie dei cassonetti che sono stati bruciati. Ci spostiamo invece a Bari. Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento nel centro della città. I due anziani presenti in casa sono rimasti intossicati dal fumo poi ricoverati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'appartamento però è stato completamente distrutto. Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio. Passiamo ora invece alle buone notizie che porta con sé il nuovo anno. Si chiama Cristian, il primo bambino che è nato in Puglia nel 2023, è venuto al mondo a 1.17 minuti nel Policlinico Riuniti di Foggia, pesa più di 4 kg e sta bene. A 1.48 invece è nato Walter nell'ospedale Tatarella di Cerignola, primo fiocco rosa, riva Bari al Policlinico alle ore 2.01 quando è nata Giulia. Si chiama invece Antonella, la prima nata in Basilicata nel 2023, è venuto al mondo alle 6.53 nell'ospedale San Carlo di Potenza. Nata da parto spontaneo, la bimba è la terzogenita di una famiglia che è residente a Tito. Giovanna invece è il primo fiocco del nuovo anno nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. La piccola è nata alle 7.24. E ora vediamo quanto è accaduto nella scorsa notte nei nostri territori. Partiamo dai festeggiamenti per il Capodanno a Bari. Bari saluta il 2022 e dà il benvenuto al 2023 tra musica, fuochi d'artificio e tante speranze. Io spero cose buone perché il 2022 insomma è stato così. Il 2023 come sarà? Speriamo un bell'anno di produttivo. Cosa ci lasciamo alle spalle? Il 2022, basta stare al 2022. Siamo usciti dal Covid quindi siamo in ripresa quindi si spera che il 2023 sia ricco e fruttifero. Si vive la città in questo 2023? Finalmente sì. Ma come potrebbe essere meglio quest'anno? Sicuramente per noi giovani con del lavoro un po' più retribuito, un po' più dignitosamente. Poi basta che si sta insieme, che non ci siano più restrizioni. Questo basta sicuramente. Spero che sia un anno ricco di emozioni, di gioia e soprattutto che non ci sia il Covid di nuovo di mezzo perché è stancato proprio. Ma come sarà questo 2023? Strepitoso. Sicuramente meglio del 2022. Bari bellissima, città bellissima, gente stupenda, bellissimo, grande. Il concerto in Piazza Libertà ha animato la serata barese ma soprattutto il ritorno della gente in strada dopo due anni di stop forzato dei festeggiamenti causa Covid ha rappresentato un grandito ritorno alla normalità. Nella lunga notte che è aperto il 2023 l'auspicio è che gli anni più bui siano definitivamente alle spalle. Finalmente si torna a viverlo nel Capodanno? Sicuramente, però ci deve essere ancora più gente, più assembramenti. Ci siamo messi alle spalle il peggio? Eh, direi di sì, è quasi ora, no? Mi state divertendo? Sì, molto. Cosa vi augurate per il 2023? I wish everyone peace. Peace, pace, pace. Volando! Cenoni, divertimento e festeggiamenti di ogni tipo, un Capodanno ritrovato anche in Basilicata, finalmente libero da restrizioni e limitazioni che, come abbiamo sentito, la pandemia ha imposto in questi due anni. Cenoni, divertimento e festeggiamenti di ogni tipo, un Capodanno ritrovato anche in Basilicata, finalmente libero da restrizioni e limitazioni che la pandemia ha imposto negli ultimi due anni. musica dal vivo, divertimento e calici in alto per brindare con familiari e amici per il cenone di fine anno sono stati destinati alla tavola 96 euro in media famiglia sostanzialmente sui livelli dello scorso anno quasi 9 italiani su 10 hanno festeggiato in casa mentre gli altri si sono divisi soprattutto tra ristoranti e agriturismi secondo Coldiretti sulle tavole non è mancato lo spumante ma anche i cibi portafortuna come le lenticchie insomma una serata di San Silvestro all'insegna della tradizione, del calore della famiglia e degli amici sono tornate anche le feste in piazza a Matera in particolare il 2023 è stato festeggiato nel Parco del Castello con il concerto di Gigi D'Alessio e restiamo nella città dei Sassi per scoprire come è ripartita nel primo giorno dell'anno all'insegna dei turisti una giornata di sole e temperature miti si sveglia così in Matera il primo giorno dell'anno per le strade tanti turisti in giro con sosta nei luoghi più gettonati e scatti fotografici dagli affacci più noti un chiaro segnale che c'è voglia di arte e cultura e c'è voglia di tornare a vivere la città in piena sicurezza la settimana di Capodanno è senza ombra di dubbio la più importante per il turismo nella stagione invernale e si spera di recuperare quanto perso in un autunno difficile condizionato dall'aumento dei costi energetici e dal rallentamento fisiologico dei flussi turistici una bella energia che parte da Matera per un 2023 di speranza, di futuro e di giovani a tal proposito è Giovanna la prima nata del 2023 nell'ospedale Madonna delle Grazie la bimba è nata alle 7.24 per la gioia di mamma Laura, papà Egidio e dei fratellini Antonio e Cristian e splende il sole anche a Bari nel primo giorno dell'anno sono stati tanti cittadini che hanno approfittato della bella giornata per correre e passeggiare hanno poi raccontato ai nostri microfoni come hanno passato la notte più lunga dell'anno primo gennaio a Bari c'è chi corre, chi invece ha deciso di fare semplicemente una passeggiata e chi si ritrova nei bar per scambiarsi ancora gli auguri inizia così il nuovo anno a Bari dopo una nottata caratterizzata dal concerto proprio in piazza sono tante le persone invece che hanno deciso di trascorrere l'ultimo dell'anno in famiglia e non mancano anche i turisti chi non corre il primo dell'anno poi non corre tutto l'anno? si cerca di smaltire almeno il caffè di ieri l'anno inizia all'insegna dello sport? si, buongiorno, una bella camminata sul mare tranquillo, tranquillo con una bella passeggiata chi corre il primo dell'anno corre tutto l'anno guarda ancora deve iniziare e staremo a vedere sperando che inizi bene per noi, per le nostre famiglie e per tutti quanti che nottata di capodanno è stata per lei? in famiglia, assolutamente una bella nottata in famiglia io questa notte sono stato in famiglia che è la cosa più bella abbiamo passato il fine anno e il nuovo anno in serenità, tranquillità, pace siamo andati a dormire alle 10 e mezza famiglia, abbiamo passato una serata normale come tutti i baresi che abbiamo una tradizione di stare in famiglia e quindi sulla tavola panzerotti? le panzerotti, quelli non mancano e le rate e almeno su Bari non ci sono stati feriti a causa dei botti, dei fuochi d'artificio che comunque non sono mancati in città, nonostante questo tanti sono gli amanti degli amici a quattro zampe che sono rimasti proprio vicino a loro nel momento clou degli spari per il mio cane è stato un capodanno come gli altri in compagnia dei padroni perché è giusto tenerli insieme, anche perché molti hanno paura dei botti di capodanno non si è spaventato per niente, botti li ha sentiti ma è stato equilibrato no, lei era sempre con me, tranquilla, senza alcun che è stato sicuramente un fine anno molto triste in quanto l'ordinanza del sindaco di Bari non è stata assolutamente rispettata hanno sparato l'inverosimile ma è stato anche un capodanno all'insegna della generosità torna infatti il pranzo degli abbracci negli spazi delle piscine comunali grazie all'associazione Incontra già dalle prime ore di questa mattina i volontari dell'associazione Incontra si sono dati appuntamento negli spazi delle piscine comunali di Bari per preparare il pranzo degli abbracci che ancora oggi, dopo 16 anni, rappresenta un momento di comunione e solidarietà che avvicina sempre più giovani al mondo del volontariato quest'anno è speciale perché dopo i due anni pandemia che ci hanno visto costretti a festeggiare un capodanno itinerante con la nostra unità di strada riabbracciare i nostri amici senza dimora le famiglie o chi ha bisogno in un ambiente veramente accogliente tutti insieme è speciale è speciale perché tutti loro in questi anni ce l'hanno chiesto è speciale perché non è un nostro abbraccio ma è un abbraccio di tutta la città ricordiamo che stiamo donando le scatole di Natale che la città ci ha donato i volontari che ci hanno contattato da ogni dove, dalla provincia di Bari, da Bari sono qui con noi oggi siamo circa 180 pasti oggi anche se siamo pronti a ricevere circa 220 persone quindi siamo preparati per ogni evento per ogni possibilità chiaramente tutto questo come diciamo, nulla si fa da soli ma insieme in rete e funziona grazie al comune di Bari che ci sostiene grazie alla ristorazione della Disa che ci fornisce i pasti e anche grazie alla fondazione Progetto Arca che ci ha donato altri regali oltre quelli del comune per donare ai nostri amici senza dimora Cosa prevede il menù? Abbiamo piccoli antipasti da panzerottini, crocchette, salumi, affettati chiaramente tutto nel rispetto di tutti nel senso che non abbiamo carani maiale perché è musulmano e quant'altro e abbiamo una lasagna il polpettone e poi abbiamo i dolci, frutta taglieremo insieme un grande panettone spumante insomma festeggeremo e tanti balli soprattutto nel menù c'è il ballo grazie ai musichieri che abbiamo qui con noi Auguri a tutti! E queste festività hanno premiato lo spumante prodotto in Puglia ma la col diretti allerta occorre fronteggiare l'aumento dei costi di produzione e la concorrenza sleale Per otto italiani su dieci il brindisi di fine anno è stato made in Italy e lo spumante prodotto in Puglia è stato tra i prodotti più venduti oltre 1,5 milioni di bottiglie pugliesi sono state stappate a mezzanotte registrando così un aumento delle vendite di circa l'1% rispetto allo scorso anno ha stimato la col diretti regionale Affari da traino alle bollicine pugliesi a livello nazionale e internazionale è stata la notorietà acquisita negli anni dall'eccellenza dei vigneti dal Primitivo al Negramaro fino al Salice e Salentino per citarne alcuni Tuttavia a smorzare leggermente gli entusiasmi per l'aumento delle vendite ci sono anche gli aumenti dei costi di produzione a gravare su produttori e sul prezzo finale Per i vigneti i costi diretti e indiretti nell'ultimo anno sono aumentati con percentuali anche a tre cifre è il caso dei concimi che hanno registrato un più 170% le bottiglie in vetro invece hanno subito generalmente un aumento del 70% il costo dei tappi etichette e imballaggi è cresciuto fino al 45% aumento dei costi delle materie prime dei costi per la produzione e per il trasporto oltre a questi problemi nel nuovo anno occorrerà anche fronteggiare sottolinea la col diretti la concorrenza sleale e i prodotti contraffatti che sempre di più mettono in difficoltà le produzioni originali a Bitonto questa mattina a Santa Messa nella cattedrale di Maria Santissima Assunta celebrata da Don Marino Cutrone che nella sua omelia ha lanciato un messaggio di pace per tutte le popolazioni attualmente in guerra la messa è stata trasmessa in diretta su TRMH24 ancora un messaggio di pace che questa volta arriva dalla cattedrale di Bitonto dove è stata celebrata la Santa Messa per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio da Don Marino Cutrone neoparraco della Chiesa riconosciamo Maria la madre di Gesù ma anche la madre nostra per cui vogliamo affidare a lei questo nuovo anno soprattutto vogliamo chiederle di prenderci per mano e di condurci di darci una mano così come fa ogni mamma con il proprio figlio un anno complesso quello che si è appena concluso con la pandemia che ha allentato la sua morsa e con una guerra nel cuore dell'Europa i cui effetti si sono risentiti anche qui le auspici sono un desiderio di pace un augurio di pace che questa pace che non significa solo assenza di guerra ma significa anche ogni bene per ciascuno di noi diventi realtà ovviamente in modo particolare per quelle popolazioni che sono in guerra penso all'Ucraina ma penso anche a tante altre parti del mondo dove esiste purtroppo questa violenza questo odio questa cattiveria quindi che ci sia il bene che ci sia la serenità che ci sia la gioia che ci sia la pace per tutti e poi una riflessione anche sulla scomparsa di Papa Benedetto XVI è una grave perdita perché è stato un uomo colto un uomo di grande un grande teologo ma soprattutto anche un grande pastore che veramente anche con le dimissioni ci ha insegnato tanto ad esempio proprio l'umiltà per cui è giusto secondo me questa attenzione nei suoi confronti anche io personalmente l'ho conosciuto sembrava un uomo freddo distaccato come qualcuno invece era una persona molto attenta molto vicina che prendeva a cuore ogni situazione per cui merita insomma questa attenzione anche la nostra preghiera in questo momento che non c'è più e ritorna dopo due anni la tradizionale marcia nicolaiana in circa cento podisti hanno corso dalla basilica di San Nicola fino alla spiaggia di pane e pomodoro dove hanno poi fatto il primo bagno dell'anno un primo dell'anno che sa di primavera e come da tradizione dopo due anni di stop torna la marcia nicolaiana giunta alla sua ventiduesima edizione una corsa lunga circa tre chilometri che parte dalla basilica di San Nicola e arriva fino alla spiaggia di pane e pomodoro ed è proprio dalla basilica che padre distante ha augurato il suo buon anno di lì poi è partita la corsa colorata dei podisti che arrivati in spiaggia si sono subito svestiti e tuffati a mare tra di loro anche il sindaco di Bari Antonio De Caro come da tradizione abbiamo voluto anche quest'anno augurare il buon anno facendo il bagno a pane e pomodoro stiamo scoprendo però chi ha introdotto questa tradizione perché lo vogliamo venare perché fa freddo oggi no oggi per fortuna non fa freddo è una bella giornata e auguro alla mia città tanta fortuna per quest'anno auguri buon 2023 non poteva mancare l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli per il primo bagno dell'anno di buon auspicio com'era l'acqua? l'acqua era leggermente fresca ma si stava veramente bene ma si sta sempre bene in acqua anche a Capodanno questa leggera foschia ci ha dato solo la possibilità come dire che da terra non ci vedessero però si stava si stava bene ed è di buon augurio per tutti quelli che hanno fatto il bagno questa mattina ma soprattutto per l'intera città il 2023 sarà un anno di cambiamenti bisogna accompagnarli questi cambiamenti sperando che siano anche verso il meglio come tutti ci auguriamo la Madonna di Avigliano da Papa Francesco ieri e oggi nella Basilica di San Pietro a Roma guardiamo l'icona della Vergine Maria oggi e domani qui nella Basilica di San Pietro possiamo venerarla anche nell'effigie della Madonna del Carmen di Avigliano presso potenza non diamo per scontato il mistero della maternità divina lasciamoci stupire dalla scelta di Dio che avrebbe potuto apparire nel mondo in mele modi mostrando la sua potenza invece ha voluto essere concepito in piena libertà nel Grampo di Maria la Madonna del Carmine di Avigliano da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro a Roma per il Tedeum di ringraziamento e per la giornata mondiale della pace con la Santa Messa del primo gennaio grande commozione per l'intera comunità aviglianese che nutre da sempre profonda devozione per la Vergine del Carmelo radici solidi ha detto il sindaco Giuseppe Mecca che costituiscono il comune denominatore tra devoti che oltre i confini della nostra città guardano al Monte Carmine al Santuario quale riferimento spirituale di cui abbiamo costantemente riprova ogni anno durante le celebrazioni religiose ringrazio Don Mimolo Russo e la parrocchia per la sua opera quotidiana continuato il primo cittadino anche in virtù di questo evento straordinario e in vista del prossimo giubileo del 2025 i tempi sono maturi per avviare l'iter amministrativo necessario per la proclamazione di Avigliano quale città di Maria Un appuntamento che si rinnova ogni anno e rappresenta un momento di condivisione e di speranza per l'anno nuovo che è appena cominciato per salutare il 2023 la Camerata delle Arti torna con il tradizionale concerto di Capodanno che si terrà il 2 gennaio alle 18.45 nell'auditorium Gervasio ad accompagnare i tenori Zizza Ogu Francesco Pagni e Francesco Gingariello ci sarà l'orchestra sinfonica Ico 131 della Basilicata una formazione che prosegue il suo ricco cartellone di concerti con l'appuntamento materano il concerto di Capodanno spiega il maestro Francesco Zingariello direttore artistico dell'associazione rappresenta anche per noi un momento importante un bilancio dell'anno appena trascorso nonché l'opportunità di cominciare quello appena iniziato con la grande musica a cui il nostro pubblico è positivamente abituato ricordiamo che il concerto sarà trasmesso in diretta su TRM H24 nell'ambito della programmazione di Natale insieme e questa era l'ultima notizia vi ringraziamo per averci seguito e vi rinnoviamo gli auguri per il nuovo anno per averci seguito per averci seguito